No, no foto, no ti prego, siamo in un momento difficile, si infatti, lo stai cercando di Andy, ma basta, non viene più conto, Andy, Andy, infatti è video, no, è bevo, se ne è massavistina, perché se ne è massavistina, perché se ne è massavistina, perché se ne è massavistina, non ti vedo i passi in tutti i miti.